Si è svolta sabato scorso, presso il convento di San Francesco di Lustra, l'inaugurazione della mostra militare a schiege di memoria, a cura del dottore Andrea Ricci e del dottor Fabi Astone. L'evento è stato organizzato dalla Prologo San Martino Cilento, in collaborazione con il Centro Culturale Sudistorici, il saggio di Eboli. A presentare l'evento, Silvio Cossa, si è trattato di una piccola rassegna di collezionismo e oggettistica militare, mostreggiature, libri, cartoline, accessori e equipaggiamenti delle diverse nazioni partecipanti ai principali conflitti del Novecento, con particolare attenzione ai cimali belgi italiani. Inoltre, nel corso dell'incontro si è svolta la premiazione del concorso nazionale di narrativa, il Novecento in Italia, nella nostra storia di guerra, giunto alla quarta edizione. Presentata durante la serata, anche l'antologia del concorso, contenente saggi, alcune testimonianze e racconti elezionali della giuria, a cura di Giuseppe Barra, Antonio Capano e Amedea Lampugnani. Le riprese video sono state a cura dell'Associazione Arcade di Agropoli, le fotografie, invece, sono state curate da Giuseppe Anastasia.